più crude il tormento che possa trovare il cuore ecco qua, basta con più stelettorno ma puoi via adesso, sui piedi siamo l'oretto grazie stop, è certo stop, è certo ah, è il regalte tu ci stai Giovanni? Allora, metto il fumore. Carrello! Azione! ecco è il montaggio o il muro? è il muro ok grazie grazie